Provo a fare i pronostici per quanto riguarda questa sera la Champions League Sono fuori da casa, mi sto mangiando una pizza, però provo a fare i pronostici Club Rouge contro Benfica, sarà sicuramente una partita combattuta Il Benfica è molto forte come squadra, stessa cosa però ragazzi per Club Rouge Che lotta ogni pallone, non è facile fare il pronostico ma ci provo Questa vi ricordo che è la partita tendata e successivamente ci sarà quella di ritorno 1-0 per Club Rouge, vincerà il Club Rouge oggi Marcatore Bucignan, ci c'è così Bucinan, Bucignan Questo è anche un giocatore dell'Inter, nel senso l'Inter se lo vorrebbe prendere Vediamo un po', Borussia Dortmund contro il Chelsea Sono sicuro che il Chelsea si vuole riscattare Perché la squadra forte è il Chelsea, ce l'ha, i giocatori sono forti, non sono pipponi La squadra è molto forte, si vorranno riscattare Soprattutto oggi, contro una squadra molto forte Ben, che si difende bene, il Borussia Dortmund lo conosciamo che è una bella squadra 2-0 per il Chelsea Marcatori Joe Felix, che se sta in forma è devastante E Kai Havertz, che anche lui se sta in forma è devastante Mettigli un pallone in mezzo oppure un pallone rosotera Ah, per sé che te le segna tutte Vediamo se ci è al secco Provate a fare anche voi qui sotto i vero nostri Ciao belle